Draghi firma al maschio e al genio il patto salva Napoli, il comune evita il dissesto, oltre 1,2 miliardi in 20 anni. Il premier bloccare la migrazione di giovani, con il PNRR investimenti nel porto per 241 milioni. Colloqui molto costruttivi oggi a Istanbul tra Russia e Ucraina, che accetta la neutralità, probabile stop dell'attività bellica Kiev. Si viaggia verso un confronto Putin-Zalewski. Borse europee fiduciose sull'esito delle trattative tra Kiev e Mosca. Piazza Fari guadagna attorno ai due punti. Di nuovo in rialzo del petrolio. Brent sui 113 dollari al barile. Contagi leggero calo nell'ultima settimana, ma salgono i recovery. Giovedì termina lo stato d'emergenza. Costa agire con prudenza, ma scenario positivo. Stasera Alice Channel Talk. La crisi delle professioni e la sinergia dell'ITS con il mondo delle imprese, al centro della puntata in rete dalle 21 sui nostri canali web.